Sono 81 i nuovi casi di covid accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 3627 tamponi molecolari e risultato positivo il 2,2% dei campioni. Il tasso di positività odierno è il più basso registrato dall'inizio dell'anno. 8 i decessi. Il bilancio delle vittime sale a 2385. Ancora in calo il dato complessivo sui ricoveri. I nuovi positivi hanno età compresa tra 5 e 97 anni. 516 guariti. Le province con il maggior incremento di casi covid quest'oggi sono quelle dell'Aquila e di Teramo dove i casi sono rispettivamente 29 e 26. Seguono il pescarese con 19 casi e il chietino con 5 casi. 3 dei contagiati invece provengono da fuori regione. Gli 8 decessi, 4 dei quali relative ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL, riguardano persone d'età compresa tra 65 e 95 anni. Gli attualmente positivi scendono sotto quota 9.000. Nelle ultime ore sono 443 in meno per un totale di 8.614 persone. I ricoveri passano dai 465 di ieri ai 447 di oggi. 400 pazienti, 19 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in area medica e 45, uno in più rispetto a ieri, sono in terapia intensiva. Gli altri 8.169 positivi, 425 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL.